Ad una città hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti, è strano non ho più voglia. Amore mio che fame spaventosa, deve essere quest'aria innaturale, è bello parlare d'amore tra un fritto e un'insalata, e dirti che fortuna averti incontro. E che domenica bestiale, la domenica con te, ma però ogni tanto mangio un fiore, e lo confondo con il tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. Applausi a scena aperta per il cantatore Fabio Concato, che ieri ha ripercorso il suo vasto repertorio davanti al pubblico del Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, cantando per il punto nascita del locale Nosocomio. Cresce la solidarietà per il revarto di ostetricia e ginecologia, che sta incassando una serie di segnali di buon auspicio, come quello dell'assunzione a tempo indeterminato del cinecologo Gianluca Di Luigi, in attesa della decisione definitiva che spetta al Ministero. Domenica bestiale, domenica con te, ogni tanto mangio un fiore, e lo confondo con il tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. Questo macchinario che mi hanno detto è importantissimo, del reparto ostetricia e ginecologia, e ho cercato di fare la mia parte e spero di esserci riuscito almeno un po'. Così è sortito con cato i nostri microfoni, mentre soddisfazione è stata espressa dall'assessore comunale Mauro Tirimacco e dal presidente dell'associazione Nomadi Fan Club, Vincenzo Bisestire, organizzatore del concerto. Il pubblico ha risposto, è stata una serata bella, molto emozionante, e sicuramente abbiamo messo un altro tassello, un altro mattoncino per l'acquisto di questo macchinario che dobbiamo donare prossimamente al reparto di ostetricia e ginecologia. Bisestire ha ricordato che ricavato della serata servirà ad acquistare un macchinario all'avanguardia, il Monalisa Touch, per il trattamento laser contro l'atrofia vaginale. A Sulmona il cantatore Fabio Concato si è esibito con i musici, ovvero Ornella d'Urbano, Arrangiamenti, Piano e Tastiere, Gabriele Palazzi Rossi, Batteria, Stefano Casali, Basso, Lerri Tomassini, Chitarre. Che mentre mangi sotto ti passa nelle macchine, ma come sarà? Ti guardo dallo specchietto, bella e pensierosa, come va? Hai visto come è bella Roma, è quasi vergognosa, come va? Ed ogni volta che ritorna è sempre un'emozione E oggi forse anche più grande perché sei qua Grazie Fabio Concato, grazie ai suoi musicisti Grazie a tutti